Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono il vostro Pokémon Ita7 Raga, il sondaggio ha parlato chiaro Cosa ha detto il sondaggio? Video spacchettamento versus Quindi cosa abbiamo? Scarlatta e Violetto I blister, qua da un pack, quelli Ate e GameStop nella confezione contro Zenith Regale Amici, video bomba Team Scarlatta e Violetto o Team Zenith Regale? Io non lo dico però so già di che team sono Allora, incominciamo con uno di Scarlatta e Violetto, uno di Zenith Regale Uno di Scarlatta e Violetto, uno di Zenith Regale Oh, apriamo questi blister pack molto carini devo dire E vediamo, oh, che cosa c'è all'interno raga Ora io dico, la cosa è, quanto dobbiamo pullare? Eh raga, dobbiamo pullare tanto Dobbiamo pullare tanto Quindi vediamo questo bellissimo Kairados Terra Crystal se ci fa pullare Voi che dire, secondo me, raga ci fa pullare Oh, allora, via Uno e trick fatto Ed eccoci qua Allora, energia base Toad Skull Rotom Eh raga, raga Tanta roba Pacenzi Caramella rara Toad Skrull Ciclizar Banda Vitale Forgless Reverse Prima reverse Vediamo Oh Crocodile Seconda reverse Oh Cos'è? Aulucia Però che bella questo Allora, quindi Direi 0 Per quanto riguarda Il primo pack Di Scarlatte Violetto Adesso Abbiamo il primo Di Zenit Raga, qua secondo me Non voglio dire Ma Zenit distrugge Secondo me Lo distrugge Proprio Scarlatte Violetto Vediamo Cosa riusciamo a fare Amici Come sempre Iscrizioni Leggo Commenti Quello E vi chiedo CarTrader Link in descrizione Iscrivetevi Che avete 2 euro Usando il mio Codice referenziale E andiamo Cosa ho fatto qua? Raga L'ho fatto uno Che mi darà così Uno, due, tre, quattro Raga No raga L'ho fatto Ho sbagliato Caria bug Lucente Raga Ho sbagliato Qua sotto abbiamo il pull Di Ogre Olo Raga Ci siamo spoilerati tutti Sto pack è andato male Ci siamo presi male dal trick C'è la ruota e qui Non ho combinato No Comunque Abbiamo un pull E mi mancava oltretutto Primo pullettino Lo mettiamo qua Raga Primo pull Per Zenit regale Mo vediamo sto secondo pack Di scannate di violetto Raga Che cosa ci fa Ma comunque raga Sto pull aumentato È una presa in giro Cioè Ormai lo dico Sto video qua Sarà la conferma Di questa mia teoria Che è una grandissima Stupidaggine Quella che hanno detto Che hanno aumentato Il pull rate Perché secondo me Proprio l'hanno diminuito Non è tanto Qua torniamo A colpo di fusione Allora Trick di uno Vediamo se lo sbagliamo Olè Questo non lo sbagliamo Il prossimo Forse sì Allora Energia base Di tipo erba Amici miei Varum Clunker Skidu Quaxly Amici miei Commentate Fatemi sapere Se vi piace Questa inquadratura Diversa Zangos Marmocchio Fluffy Chiria Reverse Fuecoco Reverse Raga Pull Pull Allenatore Pepe Allenatore Almeno abbiamo pullato Raga E qua invece Va un punto Abbiamo un punto Con Scarlatta e Violetto Guardate qua Raga La situazione È Eh Raga La situazione È un pochettino Così Zenith Facci pullare L'Arceus Gold Ti prego Ti prego Faccelo pullare Ti prego Ti prego Dai Che ne abbiamo bisogno Ci prendiamo St'Arceus Gold E ci sistemiamo Voi che dite Mi ci viene Allora Non sbagliamo Uno Due Tre E quattro Mi sembra che Avevo fatto giusto Oh Boh Allora Energia Di tipo elettro Soul rock Scarpetta trekking Metal Starly Shider Emolga Yangus Cherubi Emolga Reverse Double Raro Nonomografico 1 a 1 Siamo amici 1 a 1 Tra Zenith E Scarlatta e Violetto Eh raga Invece mi sa che io dicevo Che Che Zenith Stracciava Mi sembra Che I risultati Mi stanno dicendo Totalmente L'opposto Cioè raga Mi stanno dicendo Totalmente Magari 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 1 Allora Oh Andiamo Chargadet Bellissimo Capsa Kid Pozione Buizel Vivilon Duskurs Torquan Ciglizar Amici ci siamo Raga La schiena Stella Cos'ha Che bello Arma Rouge Che bello Sta quasi Mamma mia Il sensazione Rispettato Cos'ha No Raga ma com'è possibile Guardate qui Com'è possibile Arma Rouge E Pepe Di nuovo Tre pull Però Raga Dopo Pepe Eh il Pepe piace Guardate qua Non ci credo Sono sconvolto Raga Sono sconvolto Comunque Sti pack Sti pack Del GameStop Mi sa Che Altro che TB Blister pack Ma quando mai Guardate qui Che pull Che stiamo tirando fuori Cioè Forse Il pull aumentato Cioè È vero Ma Nei pack Quelli Del GameStop Confezionati Allora Cosa abbiamo Qua Zenith Mamma mia Ma tra Zenith Tra scarate voletto Un trick 3-4 Allora Siga recipienti Energia di tipo erba Scarpe da trekking Metang Fratelli Fratelli manca in spalla Panciam Snorant Rockroof Tangela Baltoi Arceo Sogoldi Prego Uh Lapras Mi mancava Della Galarian Gallery Guarda Ma che meraviglia Raga Guardate qua Che spettacolo E sotto Tapulele Olo Vabbè Dai 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 Non male Lapras Bellissimo Raga Ma che pull Che stiamo tirando fuori Oggi si pulla Ma quando mai succede Quando mai Godiamoci sto momento Peccato E non altrimenti Perché se no ne aprivo Almeno una ventina Guardate Almeno una ventina Le aprivo Mi sa Allora Tra un po' A giugno Esce Evoluzione A Paldea Il nuovo set Anzi Diciamo La prima Espansione La seconda Espansione Di Scarletta e Violetto Ma che ha fatto Con me Sto Di due Le carte Raga Questo Po' Di manita Siete Un mila guai Un mila guai Ragazzi Sono cose Naturali Vieni Sono cose Naturali Oh Voilà Olè Allora È già base Manshift Pawnyard Wiglet Toadschool Redant Crocodile Flamigo Rodom E poi mi fermo Iscrizione Like E commento E tu Non lo metti mai Non lasci il like E non ti iscrivi E battilo E schiacciano il tastino E dai Sì Allora Ti scherzo Rodom E Rodom Due artwork Diversi oltre tutto E poi Mioscarda Olografica Va bene Allora direi che Guardate qua Questo qua è il pool Di scarlatte Violetto Direi Notevolmente Notevolmente Bene Ci siamo capiti Quindi Adesso O Zenit Regale Non ci credo E perdere Zenit Ragazzi Non ci siamo Dobbiamo intervenire Dobbiamo intervenire Una gold Una gold Magari Tra la la Uno Uno Due Tre e quattro Voglio la gold Mi date la gold E' J.D. Petro Netang Shaymin Amici Isui Ricerca D'Energia Shider Ryolu Iongus Kerubi Cos'è? Che bello Zero Ora Vimax Mi mancava La ringale di 42 di 70 Che meraviglia Ragazzi E poi cosa abbiamo? E gli oschi Va bene Guardate che bello Zero Ora Vimax Ragazzi Si chiude In parità Si è chiusa In parità Vi rendete conto Tre pull Contro tre pull Allora A livello qualitativo Direi che ha vinto Zenit Per il fatto di zero Ora Per quest'ora Aveva vinto tranquillamente Scarlatti Violetto Però raga Alla grande Like Commento Iscrizione Abbiamo un pareggio Quindi se Arriviamo Alla bellezza Di 100 mi piace Raga Facciamo la parte 2 Altri 4 Contro 4 E vediamo Dobbiamo pareggiare Si può fare in pareggio? No Si fa lo spareggio Quindi come sempre Iscrizione Like Commento E quello che vi chiedo Schiacciate la strada Pianellina Referral link Di car trader In bio Mi raccomando E chiedervi A un prossimo video A un prossimo video A un prossimo video A un prossimo video A un prossimo video